ben trovati a confronti la nostra rubrica in collaborazione con l'ufficio stampa del consiglio provinciale che ogni settimana mette a confronto per l'appunto due consiglieri uno di maggioranza e uno di opposizione oggi abbiamo per la maggioranza maria bosin del piatti t benvenuta grazie e per l'opposizione lucia maestri del partito democratico benvenuta grazie grazie per iniziare abbiamo una scheda perché sapete che il consiglio provinciale in questo momento è bloccato sulla val d'astico ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa allora siamo andati un po a ritroso a prendere uno degli ultimi provvedimenti per farlo conoscere anche a poi a chi speriamo non ne abbia mai bisogno in questo caso perché è un provvedimento entrato diventato legge provinciale in aiuto degli orfani delle vittime di femminicidio vediamo la scheda consiglio provinciale trentino attento alla violenza di genere con due nuovi leggi approvate all'unanimità a settembre che aggiungono nuovi strumenti alla cassetta degli attrezzi normativa entrambi i testi modificano la legge 6 del 2010 in tema di prevenzione della violenza sulle donne e tutela delle vittime la prima di maggioranza firmata da vanessa masè della civica e stefania segnana della lega riguarda la tutela degli orfani in seguito a femminicidi o omicidi in ambito familiare ad essi viene ora assicurato un sostegno per agevolare l'accesso ad opportunità educative e lavorative nonché a percorsi medico assistenziali e di supporto psicologico un testo che ha detto vanessa masè nasce a seguito e il ricordo della tragica uccisione della giovane mamma ester palmieri a montalbiano nel gennaio scorso esso prevede un contributo una tantum ad ogni figlio orfano under 26 e residente in trentino un intervento cumulabile con quello previsto dallo stato per coprire il quale sono stati stanziati 130 mila euro sul 2024 e 170 mila su 2025 e 26 la normativa vale per i reati commessi dopo il primo gennaio 2020 a seguito dei lavori di commissione si è introdotto nella legge anche un contributo per la copertura delle spese processuali che la donna e i figli fino a 26 anni si trovino ad affrontare il secondo testo arrivato dalla minoranza con prima firmataria maria chiara franzoia e i colleghi del pd stabilisce invece che la donna che lascia un ambiente violento venga subito considerata nucleo familiare a sé con ricalcolo quindi della sua situazione reddituale ai fini dell'accesso alla quota a dell'assegno unico provinciale il cosiddetto minimo vitale si garantirà anche un accesso guidato ai servizi che possono aiutare le vittime nei bisogni sanitari finanziari lavorativi abitativi valorizzando la rete di aiuto per favorire l'uscita delle donne dai rapporti violenti per questo obiettivo sono stati stanziati 50 mila euro nel 2024 e 150 mila nei due anni successivi proprio oggi tra l'altro c'è stato l'interrogatorio di filippo turetta per il caso cecchettin che sicuramente ricorderete anche a casa questo così è uno degli aiuti tra l'altro approvato in maniera trasversale che si possono dare diciamo ex post quando ormai non c'è più niente da fare volevo chiedere secondo voi invece dove agire per prevenire queste cose sicuramente è un tema che ci ha colpito profondamente io poi sono proprio della val di fiemme quindi l'abbiamo vissuta davvero in maniera tragica ma così come ci colpiscono quotidianamente le notizie che provengono dai giornali quindi io come presidente della quarta commissione ho accolto assolutamente di buon grado questi interventi che oltretutto sono accumulabili anche con con la normativa statale però giustamente io credo che sia necessario intervenire a monte cercare di prevenire come ha detto giustamente e non è semplice perché darsi delle spiegazioni a dei fatti così gravi credo insomma io ogni volta che apro la tele e sento parlare di queste tragedie mi chiedo cosa succeda anche nella testa di questi uomini e quindi la necessità probabilmente anche a livello di società di stare più vicini e di intercettare per tempo queste queste situazioni in varie forme insomma credo ci sia un disagio diffuso che io ritengo provenga proprio anche da dalla rete sociale che si sta affievolendo però contemporaneamente abbiamo tanti servizi che probabilmente non riescono a intercettare per tempo questi disagi e una cosa secondo me che dovremmo fare anche quella di non fermarci all'evento e ai sussidi una tantum ma poi ricordarci che queste persone hanno bisogno di aiuto anche anche nel tempo cosa che sento a volte non è non è così quindi ecco agire su tutti i fronti proprio soprattutto per per la prevenzione lucia maestri se ne è occupata spesso purtroppo di queste vicende e dell'aiuto da dare alle donne in situazioni difficili ma partiamo col dire che questo è stato un bel disegno di legge ora una bella legge che ha trovato la convergenza delle donne e degli uomini da una parte dall'altra del consiglio provinciale una volta tanto riusciamo a fare delle cose utili alle cittadine e cittadine del trentino e le facciamo insieme non sempre siamo arroccati su posizioni come sulla val d'astico che insomma portano e lasciano il tempo che trovano perciò un buon disegno di legge una buona legge alla domanda che cosa fare io sono sempre convinta che l'aver disinvestito l'aver tolto dai percorsi formativi i corsi di educazione al rispetto delle differenze sia stato un danno perché è vero che se agiamo ex post e quindi aiutiamo gli orfani e le donne che vittime di violenza facciamo una buona cosa ma è vero che dovremmo anche agire affinché queste cose non avvengano mai perché non avvengano mai noi dobbiamo partire dai piccolissimi e far capire piccolissimi con gli strumenti pedagogici adeguati che ci sono che il rispetto delle persone e della differenza tra persone è la prima prima il primo abc del vivere umano allora perché negare nelle scuole i percorsi di educazione alle differenze solo perché si teme come qualcuno ha detto che allora si educa tutti ad essere gay a me sembra una follia questo ragionamento perché nessuno insegna ad essere gay però si insegna a rispettare la differenza tra maschio e femmine e ad accogliere le positività dell'essere appartenenti all'uno all'altro sesso e secondo me dobbiamo ripartire da lì però so che la giunta è sorda da questo punto di vista forse perché ammantata da un furore ideologico che su questo punto lascia il tempo che trova e fa solo del male cambiamo cambiamo argomento parliamo di sanità ne parlavamo un po anche fra di noi prima che iniziasse questa puntata c'è sempre più bisogno di assistenza in particolare agli anziani che sono sempre di più per quanto riguarda lei Bosin avete predisposto una mozione sulla prevenzione per fare in modo che le difficoltà arrivino più tardi possibile di cosa si tratta sì anche questa è stata approvata dal consiglio all'unanimità quindi come diceva lucia per fortuna insomma sui grandi temi soprattutto quelli che riguardano il futuro no anche ci troviamo anche con delle convergenze importanti il nostro ragionamento è stato quello di dire di fronte a un sistema sanitario che sicuramente dovrà affrontare il tema dell'invecchiamento della popolazione e del calo delle delle nascite sarebbe importantissimo investire tanto in prevenzione ma che questo non sia visto solo come un compito dell'azienda sanitaria o dell'assessorato ma sia visto come un qualcosa che riguarda tutti in maniera trasversale soprattutto anche le tante associazioni le tante entità che lavorano sul territorio perché a tutti sta a cuore insomma penso ad esempio ai club alle varie associazioni che si occupano del disagio e di tante cose della prevenzione e allora abbiamo chiesto che si istituisca un tavolo dove mettere al centro la salute ma non solo come un'assenza di malattia perché la salute è tanto insomma è anche molto molto altro e provare a ragionare in maniera trasversale proprio per un benessere complessivo della della persona e secondo noi questo ci aiuterà anche perché intervenire una volta che è sorta la malattia chiaramente la qualità di vita è sicuramente inferiore se riusciamo a prevenire questo va anche a beneficio di una qualità di vita migliore soprattutto nel lungo periodo per gli anziani e credo anche chi si occupa magari anche come volontari di questo tema hanno assolutamente piacere di sentirsi coinvolti e di sentirsi all'interno di una rete e non tutti che lavorano per proprio conto con tanti buoni ospici ma se questo invece viene incardinato in un qualcosa di organico è a beneficio di tutti questo è il tema della mozione dagli anziani ai bambini si è parlato tanto in questi giorni di punti nascita e della possibilità di utilizzare lavoratori di cooperative in particolare per quelli di clese cavalese che sono al di sotto della fatidica quota fissata dei 500 parti a clese 232 a cavalese 137 la provincia sta pensando di affidare a una cooperativa bolognese nuova medica la copertura dei turni rimasti fuori perché i gettonisti hanno raggiunto la soglia limite di 240 mila euro non si può andare oltre e quindi anche in trentino si parla di affidarsi a delle cooperative maestri che ne pensa io penso che vogliamo parlarne penso questo nel senso che questo nuovo affidamento a cooperative esterne che non possono per la loro struttura garantire continuità a questo tipo di servizio nel personale che verrà affidato ai due ospedali vengono pagate 2200 euro per 12 ore di prestazione sono tanti soldi eh per il numero di parti 200 e cosa abbiamo detto? 232 a clese e 137 a cavalese esatto teniamo presente che a livello nazionale il numero di parti ammissibili per lavorare in soglia di sicurezza per i medici sarebbe anzi è 1000 noi abbiamo ottenuto una deroga da bassaglia 500 siamo ben al di sotto dei 500 come sappiamo e io direi che sarebbe giunto il momento sul punto di fare un ragionamento di chiusura dei punti nascita e di cavalese di clese perché un servizio lo tiene aperto se c'è la domanda ma la domanda non c'è e quando c'è la domanda anche dalle valli più delle volte le valli vengono in città o a Trento o a Rodeletto a partorire allora perché non potenziamo gli ospedali di valle sui servizi di pronto soccorso su che ne so altri servizi più cogenti per la valle e non consentiamo alle mamme di fare con i percorsi nascita che già ci sono un percorso di avvicinamento alla nascita buono e poi portarle qui in città o a Rodeletto a partorire in condizioni di massima sicurezza risparmiando quei soldi tanti che vengono investiti e dati alle cooperative esterne senza nessuna soluzione di garanzia e di continuità della cura risparmiandoli e rinvestendoli su altro a me sembrerebbe logica questa cosa poi capisco è una scelta di tipo politico perché in campagna elettorale si è promesso che questo deve essere assolutamente il punto di non ritorno ma io penso che le mamme non si sentano così sicure con una cooperativa che vai ieri e non si sa chi c'è non hai un rapporto con quel medico che farà nascere il tuo bambino non hai una struttura che ti garantisce perché non hai in numeri la sicurezza complessiva del parto io direi che bisognerebbe chiuderli davvero e così ne è stata ieri se non sbaglio in visita cambiamo ancora l'argomento alla residenza Fersina c'erano i consiglieri di minoranza c'era il partito democratico casa autonomia campo base e la quarta commissione di cui lei fa parte siete riusciti finalmente a visitare la residenza Fersina che sono le ex caserme di Vialdeserto e che ospitano 274 persone richiedenti asilo che situazione avete trovato? abbiamo trovato una situazione per quanto riguarda l'immobile sicuramente da ripensare ma su questo credo che ci sia tutta la volontà di prendere in mano quella struttura anzi è già stato dichiarato che è una struttura che dovrà essere demolita a breve e quindi ecco su questo credo che sarà necessario impegnarci tutti per trovare una soluzione che sia migliorativa rispetto a quella attuale per quanto riguarda invece la situazione in generale io devo dire che è stato un momento anche così di grande arricchimento anche personale perché c'è stato anche una sorta di confronto con gli ospiti ovviamente quelli che hanno voluto parlare e hanno autorizzato anche al confronto e mi è sembrato che tutto sommato anche loro abbiano voglia che si prenda in mano il tema in maniera concreta e io penso anche libera da imposizioni ideologiche tanto di una parte che dell'altra una cosa che io mi sono ripromessa perché quando si parla delle persone soprattutto di sofferenza perché qui che se ne dica insomma credo che quando si fanno scelte di vita di questo tipo sicuramente dietro ci sono delle grandi sofferenze affrontarla in maniera concreta e credo che siano temi complessi ai quali bisogna dare delle risposte complesse anche le risposte perché vedo che a volte si generalizza qui stiamo parlando di persone con una richiesta di asilo quindi delle persone alle quali va data la possibilità di fare il proprio percorso per appunto richiedere l'asilo politico e così e quindi è giusto che ci sia questo tipo di approccio loro hanno lamentato anche le lungaggini che non permettono siccome avrebbero un visto di lavoro però poi la lungaggine per avere anche eventualmente qualora fosse negata la loro richiesta per i ricorsi a volte li mette in difficoltà a proseguire con il contratto di lavoro credo che su questo andrebbe investito tanto sia in questo caso specifico io ho trovato delle persone che hanno voglia di lavorare hanno voglia di integrarsi che hanno anche apprezzato quello che stanno facendo le cooperative che in questo momento hanno l'incarico insomma di lavorare alla residenza ma loro stessi chiedono anche che non si faccia di tutta l'erba un fascio ci hanno proprio detto anche loro noi avremo piacere che ci sia sta distinzione tra quelli che sono qui vogliono integrarsi vogliono lavorare e quelli che creano invece problemi perché insomma vedo che poi a far notizia sono il più delle volte quelli e quindi ecco che ci sia una bella distinzione un metro di misura diverso dove serve intervenire in maniera importante che lo si faccia anche prendendo dei provvedimenti importanti a beneficio proprio di tutti coloro che invece vengono con queste intenzioni positive e dall'altra parte chiudo scusa perché vedo che mi sto allungando credo che abbiamo tanto bisogno di persone che lavorano perché insomma lo vediamo tutti i giorni e quindi creare per loro dei percorsi di integrazione e di lavoro è fondamentale e anche dal punto di vista della natalità credo che anche insomma su questo tema siano una risorsa per cui intervenire ma con delle distinzioni in maniera proprio concreta su questo credo di potermi impegnare insomma per quello che posso Lucia Maestri Sì è buona la distinzione concordo non tutte le persone che arrivano da lontano da noi sono delinquenti ormai purtroppo anche nella nostra città e nel nostro Trentino si associa l'emirato al delinquente non sono tutti così i delinquenti vanno puniti così come vanno puniti i cittadini italiani i trentini che infrangono la legge punto chiuso qui non ci sono discussioni però quanti sono i delinquenti rispetto alle 247 persone che sono ospitate stavo per dire contenute e dopo spiego perché alla residenza Fersima quanti sono? sono una percentuale minima sono quelle che fanno notizia ma sono una percentuale minima dicevo contenute nella residenza Fersima dico contenute perché purtroppo la giunta Fugatti ha deciso che i percorsi di integrazione delle persone che arrivano da lontano sul nostro territorio non sanno più da fare e ha preferito concentrare tutte le persone ospiti di questa terra in un'unica residenza la residenza Fersima che ha delle difficoltà di tipo strutturale ma sono delle difficoltà minori anche quando si parla di scuola si parla delle persone e non dei muri e anche qui noi dovremmo parlare delle persone cosa possiamo fare? ma intanto pensare che integrare le persone in un territorio come il nostro ricordo territorio di fortissima emigrazione all'inizio di questo secolo e noi dovremmo quanto meno ricordarci da dove arriviamo perché ecco metterle nelle condizioni queste persone di poter intanto conoscere la lingua conoscere i doveri e i diritti integrarsi fino in fondo se ritieni tutti lì è difficile l'integrazione mentre nelle piccole comunità penso alle esperienze che sono state fatte in giudicare i rendena penso a tante piccole esperienze c'è più facilità ma a farli stare in mezzo alle persone e anche a poter esercitare il loro lavoro le voci di queste persone ci raccontano che non possono andare a lavorare perché loro a una certa ora come in caserma devono rientrare e quindi se vanno a aiutare un pizzaiolo loro non lo possono fare perché il pizzaiolo ha bisogno di una certa lunghezza di tempo notturno per l'aiuto e loro devono rientrare a una certa ora allora c'è da ripensare anche qui è una grande differenza che io riscontro tra noi e la giunta Fugatti sul tema noi non siamo per legittimare le persone che delinquono punto siamo però per mettere nelle condizioni le persone oneste che sono la maggior parte di quelle persone che cercano da noi un futuro di vita diverso da quello della loro terra anzi un futuro di vita e basta perché nella loro terra non c'è siamo dell'idea di mettere nelle condizioni di integrarsi il popolo trentino è capace di tenerle dentro queste persone c'è ancora un tessuto solo chi cerca il nemico e sul nemico cerca anche di ottenere lucrare consenso usa queste persone per creare paura e non le lascia e non le lascia sopravvivere ripeto i delinquenti vanno puliti gli altri no ci restano due minuti uno a testa li usiamo sul terzo mandato dei sindaci ieri è arrivato il sì alla norma d'attuazione in commissione dei dodici che attribuisce alla regione la competenza se superare arrivare a questo terzo o superare questo terzo mandato nei comuni sopra i 15.000 abitanti che posizioni avete così io sono in commissione dei dodici per cui ho sostenuto anche la possibilità di avere questa competenza a livello nostro trentino insomma ci sarà un dibattito sicuramente in consiglio regionale un dibattito importante io sarei per per l'apertura ecco se dipendesse da me io sarei per l'apertura anche sopra i 15.000 abitanti Lucia Maestri in 50 secondi credo sì 30 no nel senso che a mio modesto parere dopo due mandati si è dato ed è anche giusto soprattutto nei piccoli comuni un ricambio così come nei grandi noi io provengo da un partito che sul limite dei mandati ha sempre posto una regola chi fa l'assessore chi fa il sinnaco dopo due mandati si è espressione del PD va a casa non c'è per i consiglieri provinciali no per noi sì per noi sì per il PD sì dopo tre mandati si va a casa come consigliere provinciale non c'è a livello di legge provinciale nemmeno di legge del Parlamento questa cosa quindi forse qui bisogna inflettere però un sindaco che è così esposto con la sua comunità soprattutto su una piccola comunità da sindaco diventa modestà dopo tre mandati e quindi sarei per dire no poi vediamo cosa farà la Corte Costituzionale perché ho paura che la Corte Costituzionale dica di no alla nostra norma d'attuazione perché ha già detto di no a Sardegna e quindi vedremo un po' l'ultima parola come sempre ce l'ha la Corte grazie a Maria Bosin del PATT e grazie a Lucia Maestro del Partito Democratico noi ci rivediamo la prossima settimana Grazie a tutti